Ciao ragazzi, sono Paolo, siamo reduci dalla serata di Miss Mondo al locale La Corte, un locale nel nord Italia, vicino a Milano, a una sessantina di chilometri, in provincia di Piacenza. Un locale che abbiamo rilevato da qualche mese, stiamo cercando di rilanciare, facciamo eventi, le serate in cui siamo aperti al momento sono giovedì, venerdì, sabato e domenica. Le nostre selate generalmente sono organizzate al sabato per esempio con cena, dopo cena c'è un live di un'ora e mezza, due e per chi si vuole fermare oltre al live ha anche discoteca fino a tarda notte. Grazie a tutti! Abbiamo puntato anche sulla ristorazione, una ristorazione di qualità, con prodotti e tipicità della zona, siamo in Valtidone quindi sicuramente ci sono i batareux che sono qualcosa di particolare della nostra zona, ma facciamo anche menù di carne, di pesce o pizza, quindi cerchiamo di soddisfare tutti i tipi di palato. Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi, seguiteci su Facebook, su Instagram per vedere quali saranno le prossime date disponibili. Grazie a tutti!